Prima di iniziare col video vi invito a premere la campanella in alto a destra per rimanere sempre aggiornati sui video che usciranno sul canale Buona visione Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Quest'oggi siamo su un sito molto particolare che si chiama pokecries.com Nel quale andremo a fare una challenge ancora una volta riguardante i versi dei pokemon Ho visto questo genere di video soprattutto su questo diciamo sito da Federic95ita qualche giorno fa Mi sembrava davvero ben fatto sicuramente molto meglio di quel sito giapponese che usavo prima E quindi ho deciso di provare a proporvi questa diciamo nuova tipologia di una challenge che in realtà abbiamo già fatto Come potete vedere in questa interfaccia abbiamo tre differenti modalità ossia standard Ossia standard non c'è bisogno di spiegarvelo quella dove ti mettono fuori le immagini e devi indovinare il pokemon Timer per indovinare tutti i pokemon diciamo cercare di indovinare più pokemon in un minuto che è quella che andremo a fare oggi E blind che non farò mai perché devo indovinarli senza aver le immagini e un suicidio assistito Direi di iniziare subito con timer ragazzi mi raccomando se volete vedere altri video di questo genere Perché su questo sito come vedete ci sono tre differenti modalità, quattro livelli di difficoltà Si possono fare più video se vi piacciono lasciate un bel mi piace come giusto che sia se mi piace lasciate un bel mi piace E così potrò portarvene davvero altri Ho già provato a fare qualche partita e devo dire che mi diverto anche abbastanza Quindi sarebbe una cosa positiva anche per me Detto ciò, easy ragazzi è troppo semplice Cioè ve lo assicuro non ci si diverte Quindi proverei un normal abbastanza easy Ovviamente le generazioni le selezioniamo tutte Sì ci sono tutte le generazioni non sono solo le 151 Va che figata pazzesca Possiamo iniziare Spero che i versi si sentano un pochino di più dell'altra volta Questo penso sia Yanma Ok iniziamo subito ragazzi Una corsa contro il tempo Florges dai Ok perfetto dai 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 veloce 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 Forza 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 Cos'è Ferrothorn? Ok perfetto questo tipo di vetri rotti Mi smaggio tutta la vita Quei vetri rotti a caso era Ferrothorn davvero Claydol Ok oddio sto andando benissimo non me l'aspettavo Vabbè questo è Rashidon ragazzi Questo è il pokemon nero Cos'è sta merda Yamask Ok perfetto ci siamo Ah diugong Diugong Gondola Ok vai così No non articuno Saratai Rantrum Perfetto ragazzi vai così vai così veloce Ok Parasect No no era Cloyster Mannaggia a me Inferno Inferno Ragazzi Questa è la quarta gen Me la ricordo abbastanza bene Quelli che non conosco Ok perfetto Per forza era Warmadam Non lo conoscevo Cos'è sta scoreggia? Ok perfetto Electric Perfetto Vai così vai così vai così Dai 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 Caricali queste immagini Victini Victini tutta la vita ragazzi Questo qua l'avrò sentito un botto di volte Quando citavo gli eventi Eh? Eh Huntail Ok perfetto Rindeciso non sei smithod qua Questo è Milotic Perfetto Verso molto abissale Exerneas Ok perfetto Temevo Axio qua Eh? Eh per forza Ok John Frog Ottimo Madonna Se fossi crollato su John Frog C'è Espin Perché gli altri sono tutti cazzutissimi Free wifi Free wifi ragazzi Perfetto Oddio Skiddo Ok perfetto E sono andato a esclusione qua Questo è Garchomp Ragazzi Camilla Che Sto Sto Ok perfetto Si scorpi Va bene così No Gligar Fermi Cosa stavo facendo Stavo andando su Gasly Pazzo Scatenato Questo qua sarà Goldac Ok Madonna raga Sto andando troppo bene Eh? Carvagna Ok Un fenomeno Un fenomeno Ma datemi il Nobel Datemi il Nobel Veramente Allora non era la modalità Easy Che era troppo facile Sono io che sono una bestia Metapad No direi che è tentacolo Non c'era neanche metapod Tra le opzioni Ok guaccio 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 Com'è che si chiamava minchia? C'avevo un nome orribile Piloswin C'avevo un nome orribile nella mia Oddio Talonflame Va bene C'avevo un nome orribile nella Crazylock a qualche geno Questo è Banette Vai così E Joltik Ok perfetto Ero indeciso con Tartwig qua Oddio vabbè Madonna come è ritagliato bene ragazzi Photoshop skill Lavora presso grafiche Photoshop evidentemente Ariadoss Lo sapevo Non era Boldor Ok questo qua è un'altra scoreggia Per forza deve essere La stessa catena evolutiva Eh Kirlia Ok Madonna ho visto che è il Dio Ho pensato un attimo Eh ok perfetto Il gelatino Vai così Madonna 37 37 37 O ancora più di metà barra Oh santo Eh mi sa che Gurdur Ok stavo per andare su Slugging Poi ho ragionato Eh non vedo le Ok Rifai Non lo sai Ok Obiettivamente non lo sapevo Non ho mai scelto Swampert Non me ne vogliate Omanite Oddio sto perdendo colpi Madonna Ok questa era alza Ottimo Collino Che domanda Ho avuto uno starter intero Così Madonna raga la fantasia di sto sito Non è qua Signori Il divino Sanflora Warmadam è venuto prima Perché non ci ho pensato Questa è svinda Ciao Luke Saluto Ok perfetto Stavo pensando a Bailey Questo è il casco off Vai così Dai 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 Stiamo Stiamo recuperando Questo è Snorlax Beato il ponte Rion Madonna ragazzi Che velocità Gliscore Madonna Non me lo ricordavo così Il verso di Gliscore Sono andato A esclusione Semaforo Versione Beta Questo è The Denner Non è Pidav Ok Perfetto Cos'è Shiftry No Era Manetrik Mannaggia Lo sapevo Blaziken Ok perfetto Blaziken L'ho preso Urku 2 Mr. Maim Lo sapevo Che era una scimmietta Mannaggia A te Ambi Megby Ok perfetto Sto perdendo colpi Perosimo 53 ragazzi Niente male Non so cosa sia Eh lo sapevo Ok questo qua Pesso siamo Ottimo Vai così Oddio Bastardi Ok 50 Non potete mettermi Due gatti Ma serio Cingling Ok perfetto Ci sono rimasto male Non pensavo che Blastoise Avesse quel verso Shiftry Ok stavo andando su Grotl Poi mi sono Grazie Perfetto Ero già lì pronto Per prendere Arceus Non è Cansecurem Ok perfetto Mi sembrava un verso Molto serpentesco Invece no Questo è sema Non essere Electri Non è semaforo Ci sono rimasto male Arata Vabbè Arata Minchiera E' uno dei versi più famosi Del mondo Pokémon Un verso Perché Memo suena Un verso Così Ok Questo è Blastoise Di nuovo Oddio L'ho imparato Zapdos Ok ci siamo Che sta roba Non lo so King Klang King Klang Oddio Ok perfetto No raga Non c'è più tempo È un problema Ok Spiupa Sono andato per esclusione Ditto Ok ok Sto recuperando tempo Miracolo Magmar Mi sa che non era magma Allora Enter your name Ci chiamiamo Rocket 34 Vediamo un po' Le classiche Cosa Cosa 3 3.001 Punti Follow Lota Don Twitter Sei un pazzo Scalmanato Questo qua gioca Pokémon Dai tempi del duce Come ha fatto a fare 3.001 Punti Ci ho passato Tutta la giornata Così a premere Il mouse Io ne ho fatti 60 Mi sembra che sia Passato una vita Quando 6.11 2016 Però è iniziato Il 4 marzo del 2015 A fare sta roba Tra l'altro Noto con piacere Che 1 e 2 A tipo 6 A tipo No Cos'è Un anno Un mese di distanza Perfetto Vediamo Sì ok Questo è il sito Che è abbastanza recente Vedo le date Vedo Vedo che Il cinquantesimo Ha fatto 510 punti Che io neanche Se pago i creatori Del sito Per contarmi 10 volte Ogni punto Ci arrivo Madonna 3.000 Cioè vi rendete conto 3.001 punti Ora io ne ho fatti 60 E ci ho messo A quanto Siamo di timer Scusate Ci ho messo 8 minuti Vuol dire Che lui Per farne 3.001 Ci ha messo Seconda circa 2 ore Minimo Cioè Fate voi Ok ragazzi Adesso così Per sfizio Perché sono un pazzo Voglio provare Subito in anteprima Con voi La modalità Insane Ci sono 32 Pokémon Vuol dire Che praticamente Mi suicido Finita sta roba Se ne azzecco Due È già una gran cosa Timer Insane Tutte le gen Secondo Cioè tanto durerà Due minuti Perché Oddio E si C'è il meco Forse Ok Ok Ho preso uno Miracolo Miracolo Questo qua L'ho riconosciuto Abbastanza Grazie Spiegami adesso Come faccio Eh si Ciao Che cavolo È Non lo so Miaustic No Era Fluff La bebé Era di fianco Mannaggia a me Fammi sto verso Sì Va Ok Non fermi Squirtle Squirtle Oddio Ne ho preso i due Non ci credo Non ci crederò mai Nella vita Proprio Sì Ciao Chi cazzo è sto coso Durant Oddio Oddio Raga per me tre è già un miracolo Per me tre è già un miracolo Veramente Oddio Questo lo riconosco Azumar No Chi era Non ho neanche visto chi era Ho usato Hippopotas Spiupa Grazie esistenza Dai Mi piace questo sito Raga che No Più che altro Non penso sia il sito Penso sia la mia connessione Quanto è bello Ok ci siamo Certo Pigiotto No ovviamente Che domande Iglybuff Chi cavolo Non so neanche Iglybuff Sa che esiste Iglybuff Oddio Ok perfetto Non ci speravo neanche Urkujuda Fermi 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 Questo dovrei riuscire a prenderlo In teoria Non è sindaquil Non è sindaquil E' una paiera Scrat maledetto Della chest lock E' interessante Però se magari Ok grazie Si tanto è facile Non lo so Cloyster No era Rayorn Ma Ok no Fermi 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 Questo lo so Questo lo so Questo lo so Tornatus No Era Eggisless Mannaggia Enter your name Penso di aver fatto circa 4 punti Una roba del genere Allora Enter your name Ci chiamiamo Merda Is The God Cammello 2600 Cioè vi Hai 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 Bantle Figliolo Questo qua Cioè Vi rendete conto 2600 punti Ci metti Un minuto Allora Il timer Dura un minuto Ok Un minuto Per guardare Tutti i 32 Pokemon Tu ci metti Minimo 20 Secondi È fisicamente Impossibile Che uno faccia 2600 punti Fisicamente Io non ci voglio Credere Ha citato Ha utilizzato Le caramelle rare Non lo so Cosa ha usato Non lo voglio sapere Ha chiamato Dialga Gli hanno fatto Distorcere il tempo Non mi interessa Comunque ragazzi Voi trovate in descrizione Il sito Fatemi sapere Se voi siete Fra questi Pazzi Scalmanati Io non lo so Non penso che sia Fisicamente possibile Fare una roba del genere Anche perché dovresti Andare in quarantena Per anni Detto ciao ragazzi Spero che questi video Vi piacciano Se li volete vedere Con più costanza Sul canale Sempre su questo sito Lasciate un bel mi piace Un commento Un'iscrizione al canale Se non siete ancora iscritti Mi raccomando Passate i social In descrizione Per rimanere sempre Aggiornati Sull'attività del canale E non E premete la campanella Per ricevere i feed Detto ciao Noi ci vediamo In un prossimo video Grazie